Nessun positivo, nessuno in quarantena, nessun nuovo contagio. La buona notizia arriva da Guardia Grele che finalmente è covid free. Dopo mesi di bui possiamo dire perché da gennaio abbiamo avuto quel picco elevato con la variante inglese e quindi c'è stata anche un'azione mediatica abbastanza pesante con il lavoro e l'impegno di tanti volontari, soprattutto medici, infermieri, personale sanitario che sono messi a disposizione per aiutare la ASL e l'amministrazione per eseguire prima i tamponi, gli screening e oggi le vaccinazioni, i volontari e persone civili siamo riusciti a seguire, a stare al passo secondo le indicazioni della ASL e siamo arrivati oggi finalmente ad avere questo numero zero che non vale niente ma in questo momento vale tantissimo. Il mio pensiero va a tanti miei concittadini che hanno dovuto subire purtroppo il virus, alcuni sono ancora ricoverati anche se negativi però stanno passando i momenti un po' delicati e a loro va il mio augurio di pronta guarigione per tornare insieme a noi a vivere serenamente insieme alle loro famiglie. Quest'inverno la situazione epidemiologica nel comune in provincia di Chieti era drammatica. A dicembre qui per la prima volta in Abruzzo e tra le prime in Italia era stata individuata la contagiosissima variante inglese a cui nel giro di pochi giorni risultarono positive oltre 100 persone su una popolazione di poco meno di 9.000 abitanti. Un'attenta campagna di screening e la somministrazione dei vaccini, nonché l'aiuto dato ora dalle alte temperature, hanno poi liberato Guardia Grele dal virus che quest'estate è pronta ad accogliere i turisti.